ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo di nuovo su project zomboid ragazzi avete visto che cosa è successo nell'episodio precedente siamo stati completamente cacciati da non solo da casa ma io aggiungerei da west point dai zombie e quindi v'ho chiesto in uno shorts che tra l'altro raga ho visto che i shorts funzionano particolarmente quindi sicuramente non userò di più proprio comunica velocemente con voi senza stare sprecati a virgolette video ho deciso ragazzi ma avete risposto in tanti con i commenti sono contentissimo avete dato un sacco di opzioni v'ho chiesto dove mi consigliavate dove avreste preferito vedere la prossima base alla fine dopo aver visto tutti i commenti che mi avete scritto e tutte le zone che mi avete consigliato come prossima base ho deciso di regarmi alla gated community center che sta a riverside su consiglio di andrea rosa dove sta sta zona ragazzi che faccio vedere subito nella mappa a noi siamo praticamente questo negozio di armi noi siamo qua giù ok dobbiamo fare un bel po di strada mi sono già segnato le coordinate che nel queste qui sono le coordinate per il gated community center o perlomeno proprio per la casa che ho selezionato come detto ragazzi partiremo da qui dobbiamo farci tutta questa bella stradina ragazzi perché dobbiamo superare il fiume quindi tutta sta bella curvatina segui quasi qui quasi qua ritorna su e ragazzi dobbiamo arrivare qui la casa che ho scelto è questa qua quindi ragazzi bando alle cianci eccoci qua allora il gps me lo piazzo io qua sotto voi non lo vedete perché c'è sta la mia bella faccia però ve lo segnate tanto le coordinate c'avevamo qualcosa da mangiare perché non siamo scappati di fretta e sinceramente non mi ricordo che cosa abbiamo e che cosa no allora vorrei da un'occhiata qua dietro pure tutta la benzina non so se l'abbiamo presa non mi ricordo allora non c'abbiamo nulla cioè c'abbiamo qua dentro dei borzoni un sacco di roba ma in realtà è quasi solo sono quasi solo munizioni ragazzi quindi probabilmente c'abbiamo due daniche di benzina ma sono vuote vorrei tornare a prendere tutte le altre cose allora intanto come piazzo una zuppa in scatola e ce la mangiamo ti prego dimmi che ho un apri bottiglie un apri scatole non ce l'ho non c'ho nemmeno un coltello perfetto perfetto così se fa mannaggia la miseria allora ragazzi dobbiamo innanzitutto tornare nelle due zone dal quale siamo scappati a gambe levate più che nelle due zone io tornerei nella prima vecchia base chiamiamola base perché la maggior parte del cibo e delle medicine qualcosina parecevamo sta lì ah raga con le armi stiamo messi abbastanza bene fondamentalmente diciamo che è un po un rischio cioè anche il cibo che ci abbiamo non è tantissimissimo probabilmente se ce ne andiamo direttamente al alla nuova base e potremmo comunque trovare parecchia roba là però sinceramente non è che me la sento troppo di lasciar tutto qua perché comunque un pochino di cose le avevamo trovate allora martello demolizione sono abbastanza sicuro di averlo recuperato sì penso sia stata una delle prime cose che ho preso vediamo un po se mi sono lasciato qualcosa qua dentro facciamo un fretta qua ragazzi lo lascio aperto un attimino perché così posso controllare le bende allora vediamo un po no qua mi pare che comunque avevo preso tutto di come tuona perfetto eh direi che l'atmosfera è proprio la sua o perfetta per la situazione maledetta in cui ci troviamo magari stiamo un po qua perché non vedo l'ora ok ok qua c'ho qualcosa da mangiare sì vabbè ma oddio non è che ci sono tantissimi zombie qua però no proviamo a tornare alla vecchia base base se non mi ricordo male avevo lasciato un'altra macchina faccio un controllino rapido per quanto riguarda il peso che posso inserire nell'altra macchina se non è esageratamente minore probabilmente prendo quella visto che ma vedete con questo insomma faccio parecchio casino sono una cifra veramente tanti ragazzi guarda qua vediamo se riusciamo a vediamo vediamo uh occhio oddio non so pochi per niente veramente per niente vedete sono un po' combattuto ragazzi non so se sto a fare una cavolata assurda io forse mi conviene andarmene direttamente regà proviamo 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 proviamoci che me voglio provare no regà mi sa che me ne vado ok decisamente vado via insomma tutte le armi le ho riprese da dentro casa non mi ricordo questa è una cosa che vorrei controllare ho ripreso le armi almeno quello è vero pure che le pistole le ho prese vabbè no regà allora l'unico dubbio a questo punto mi viene è che ce la facciamo se ce la facciamo meno con la con la benzina però non posso assolutamente non riesco a avvicinarmi nemmeno ragazzi troppi troppi zombie troppi troppi zombie magari ispezioniamo qualche casa lungo la strada perché case via avanti ce stanno quindi magari facciamo così eh no è troppo rischioso raga troppo troppo rischioso qui qua me la rischierei se prende un po' di benzina qui me la rischierei vi dico la verità aspetta fanno così entriamo qua dentro almeno magari stiamo un pochino più riparati è chiuso lascia la miseria raga ok c'è uno zombie togli vai va come che l'ha fiato madonna mia che ci abbiamo qua questa qua è disequipaggia non me la fa usare perché non me la fa usare perché non me la fa usare me lo trova uno straccetto raga no no faccio perché se qua a parita non la chiudiamo ragazzi ci possiamo infreppare me 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 strappa tutto vai 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 strappa tutto subito ok disinfetta corri straccio ma che poi in realtà mi sa che messa è solo riaperta una parita che già c'avevo mappa di riverside la prendiamo perché è proprio là che dobbiamo andare giusto sì 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 proprio lì che dobbiamo andare ma andiamo se tutta sta roba spesso suopiamo raga che andiamo se pure questi vai non c'è una tanica che sia una allora ragazzi purtroppo speravo ci fosse qualcosina di più che c'hai conficcato te ne posso lo va addosso no non è abbastanza acqua allora manganello lo pio lo pio manganello lo pio allora vediamo un attimo se riusciamo a riempire le due taniche di benzina che c'avevamo che stanno qua in realtà vorrei anche un attimino controllare che c'è qua dentro perché raga non mi ricordo no ci sono solo armi niente ragazzi niente allora ok fanno così passi all'altra parte grazie non vedo un cavolo raga non vedo veramente un cavolo oh porca miseria mi è preso un colpo raga giuro non l'avevo visto non l'avevo visto così arbuglio no no vabbè ma questa questa è sfiga vera comunque veloce 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 su 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 ok ok raga ripartimo subito veloce sarà un lungo viaggio eh riparte ragazzi il lungo viaggio che ci attende sarà parecchio difficile secondo me visto e considerato che non è che abbiamo tutte queste risorse eh se siamo andati a riprendere un sacco di armi per carità sì ok però per esempio il cibo ci scarsieggia occhio mamma mia vabbè ragazzi i zombie che ci stanno comunque allucinante sta cosa eh mmm questi falli fuori non me li spiegherebbe perché a me li divise da pompiere eh vedica vedica vediamo se riuscimo a fare una piccola strage subito vediamo se eh no 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 hai preso io l'ho fatta oh Eh Sarà una passeggiata Rientra nel furgone Secondo me Slalom tra gli zombie Oh Che cazzo fa Da accelerare No 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 De qua De qua De qua Allontanamo lì un attimo Eh raga Una tutta da pompiere Non la potevo assolutamente Lasciarla così Proprio no Proprio no Venghi no signori Venghi no Eh vabbè vabbè Ma raga Ho veramente Un botto di zombie Comunque Ok Mamma mia Ok Andamosene Andamosene Via 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 Perfetto Ah Una ambulanza Questa sarebbe Da aprire Sicuro che potrà Trova qualcosa Di interessante Però Proviamo Quanti siete Beh manco troppi Dai Qua No Ok Un po' Se magari Ce sta Qualcosa Di utile Meglio Approfittarmi Raga Arrivano altri zombie Eh che Giavi da ambulanza Se le prendemo Magari Lo sapevo Lo sapevo Raga Che fai Che ne ha Una pista Roba E dai su E via Via Riportiamo Ho fatto Un piccolo Pit stop Pit stop Ok Piccola Fermatina Utile Perché Abbiamo trovato Un po' De medicine Ottimo Veramente Ottimo E ripartiamo Spero De non Trovamme Un'orda Davanti All'improvviso Perché Lì A parte Il panico Ma Ecco Ad esempio Però Me conviene Annangiro Pure De notte Boh Raga Sto Zona Mi sembra Abbastanza Tranquilla Ne Approfitterei Per Chiudere Gli occhi Un po' Bene Io volevo Evitate Viaggiate Notte Avrei dovuto Aspettare Ancora Un pochetto Vabbè Oh Stavano Si stavano Avvicinando Zombie Tra l'altro Non tanto Ok E allora Niente Continuiamo Il viaggio Ragazzi Speriamo Che faccia A giorno Vabbè Facciano Sempre Per 6 5 Una bella Mappa E me la Dove Mette Qua In qualche Parte Per Verificare Le strade Non mi Ricordavo Che ci fosse Il fiume Non mi Ricordavo Assolutamente Che ci fosse Il fiume Ah eccole 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 Cancellate Regà Dovremmo Siamo arrivati Però mi sa che È dall'altra parte Siamo arrivati Siamo arrivati da sotto Porca miseria Vabbè Famo il giro Siamo arrivati da sotto Noi dobbiamo andare di là Oh Ci siamo Non c'ho tantissima benzina Noi dobbiamo andare di là 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 Non Siamo arrivati da Noi dobbiamo andare di là Im between avvicina parecchi zombie ok devo far giro all'altra parte ancora spero strada penso un paio di volte un groviglio di strade comunque sta zona raga non è stato non ci sono mai stato tra l'altro quindi non è stato non è facile per niente trovarlo però dovremmo esserci quasi su 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 bob resisti che mo qualcosa da mangiare troveremo sicuramente su dovrebbe essere questa sì la direzione è giusta ok vedo te e dai non è possibile ancora ancora muri e dai però ma c'è qua robina un po' le macchinine eh mi devo segnare ste ste coordinate siamo entrati nella zona residenziale io a sto punto penso che sì ma qua vedo un parcheggio perché c'è un parcheggio posso andare dritto qua madonna i zombie madonna brutto brutto sentite voglio uscire da qua prima possibile posso posso che cacchio è questo non lo so non so dove sono non ho idea di dove io sia ok raga alla fine ce l'abbiamo fatta siamo arrivati e fondamentalmente a mezz'ora faccio avanti e indietro perché stava spiacica guarda che zombacchiotto che ovviamente raga ci ha seguito fino alla base vabbè diciamo che tanti l'ho pure già trovati qua nel frattempo purtroppo è spuntato lo stato stomacato ora io devo dire raga che mi ero fermato riuscì a trovare una casetta e mi sono fermato avevo staccato momentaneamente la camera raga perché mi ero perso vabbè dopo cioè stavo veramente insesando sulla mappa rispetto a dove lo sta realmente quindi per evitare che me se scaricava la camera e cavolo i vari l'avevo staccata momentaneamente non stavo poco più a registrare e io insieme a registrare adesso insomma che siamo arrivati sono riuscito a trovare una casetta mi sono mangiato qualcosina sono riuscito quantomeno a fa quello però a un certo punto lo stato stomacato è arrivato poco fa ora di tutte le ferite che avevamo me ne è rimasta una sola però in realtà penso che nessuna di queste ferite spero era relativa a uno zombie quindi presumo spero veramente che lo stato stomacato sia dovuto magari a tutti i malus che ho accumulato per arrivare qua giù non ne so tanto sicuro purtroppo però vediamo allora ragazzi vi faccio intanto perché ho scelto sta casa primo è il garage la siepe è come se non esiste però farò una recinzione probabilmente che da qui se collega arriva fino a qua sotto col tempo piano piano la facciamo spero che sarà il nostro caro Bob a farla ma come ho detto ragazzi c'è credo molto molto poco no rientra chiudi qui ok a posto ok ho sentito battere c'ho questa che sballonzola raga probabilmente non credo che Bob ce la farà allora raga perché ho scelto sta casa perché come mi avete consigliato voi come mi ha consigliato il caro Andrea Rosa qui abbiamo intanto il camino che è ottimo per l'inverno specialmente non rischiamo di affogli a casa poi c'è una bella cucina con zombie ok dicevo c'è una bella cucina anche se vuota praticamente però vabbè la riempiremo la vada facendo ci danno un po' troppe porte e finestre piano piano ce le chiudiamo tutte qua c'è un altro zombie un orsinghio qua c'è un altro zombie anche ok qualcosa di utile nastro adesivo vabbè ho trovato pure la pala poi non l'avevo manco vista io ho vista la mia ragazza e mi ha detto mo poi c'è sta la pala piala tu porca miseria ve l'ho presa ottima ottima la pala un'altra lavanderia un'altra porta piano te porti bagno e una finestra tutta ok andiamo sopra e fondamentalmente c'è un bello spazio dietro coltivabile qui pure oh 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 c'è uno stronzacchiotto zombie bene dicevo lo spazio coltivabile dietro c'è c'è questa questa trascinzione faremo una sorta di muro perimetrale che parte da casa qualcosa ce l'avventiamo non è un problema ma che fa la copertura vediamo un po' che altro c'è qua sono parecchie stanzette camere ragazzi spero che lo status sparisca ma come ho detto ci credo veramente poco ariana la peggiore di ipotesi nuovo personaggio non ho fatto tanto parire qua un po' mi ci ruote però va bene questo è zomboid ragazzi proviamo a andare a dormire vediamo che succede vediamo se sparisce se è peggiore non si è mossa eh raga raga mi sa che se non fosse stato qualcosa di grave probabilmente sarebbe andato via quindi il nostro sergente bob non lo so allora nel caso in cui bob non dovesse farcela iniziate a scrivere nei commenti chi sarà il nostro nuovo protagonista eh guanti robetta così vabbè raga conti fatti la base è buona veramente buona c'è stato un sacco di case quanto uno da svaliggiare quindi ottimo abbiamo un sacco di roba nel furgone quindi dobbiamo dire a fuori tutto probabilmente non sarà il nostro bob a goderne però ragazzi si può voler manco troppo dalla vita che riempi ah è dietro di noi ok non mi fa fa niente che cibo per il momento non ce n'abbiamo ragazzi io direi che l'esodo c'è stato il lungo lungo viaggio c'è stato speriamo che bob non schiatta anche se non so così convinto nel caso schiedemene sotto nei commenti chi sarà il nostro nuovo protagonista voglio continuare a fare sicuramente userà la mira anche se si è già l'abbiamo ma la mira gli ha mettiamo sicuramente cambierò qualcosa dai diciamo dalle abilità che c'ha bob ma l'avete consigliato qualche video fa delle abilità molto molto buone bob sto giro però forse l'errore un po' è stato anche il mio aveva fatto comunque dove sta eccolo sotto peso fuori forma probabilmente non è stata un'ottima idea comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti ragazzi la cosa fondamentale neanche troppo la carpenteria quella famosa lì ma almeno un livello 2 di mira quello sinceramente poi repartigio già detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti noi ci vediamo alla prossima buona salvivianza a tutti e ciao buone